Tu consideri alle medie che guardo la salubrità in prima cosa, con da cosa guardo prodotti che mi contengano la pianta per avere delle colorazioni importanti e le pezzature, questo fuori discussione. Siamo partiti con l'MC Cream per le pezzature, è un prodotto che è stato fatto in miscela con vari antiparescitali, dunque non mi ha dato problemi di miscelazione e devo dire che ha risposto già da subito. L'MC Extra noi l'abbiamo fatto sempre da soli, non è stato fatto in miscela, a un chilo e mezzo. Verso la fine di maggio, fine maggio e faccio gli altri 2-3 interventi per la chiusura e fermarmi definitivamente la pianta. Generalmente quando parli con un tecnico, Valagro, ti dà un supporto tecnico che quasi mai esagera sulla validità dei prodotti, ti dice che il prodotto va posizionato, va fatto e ti dice quello che deve fare ed effettivamente risponde a quello che poi ti dice. Grazie a tutti!